Ciao, sono Andrea De Nicolao, ho saputo di questo importante progetto del nome Cresci e Posta. Credo sia veramente importante sensibilizzare i social network, i post, perché potrebbero avere dei grossi rischi su quello che viene postato, su quello che si scrive, soprattutto su tutto quello che si legge. Quindi secondo me è molto importante dare valore, ancora che ai post, alla vita reale, che è quella più importante, quella dei veri valori, quindi Mocallupo ha per questo progetto di sensibilizzazione perché ne vale veramente la pena.